La passione e un talento diventano delle proprie strade di vita nel momento in cui dentro una situazione complicata il talento è come se ti stringesse lo sguardo verso un obiettivo. La passione diventa forse l'unica strada che può sostituire il diritto in molti casi, il diritto a un lavoro indignitoso, il diritto a un percorso formativo, la passione è l'unica cosa che può sostituire questo voto, se ce l'hai o la riesci a riconoscere o qualcuno ti aiuta a riconoscerla è come avere un tesoro.